ok ragazzi benvenuti in un altro pack opening sempre in compagnia del vostro diabotex allora prima di partire col pack opening vi faccio vedere una cosa che è successa oggi allora guardate ragazzi stavo sulla mia pagina facebook ho messo la foto stavo scartando degli agenti free si ferma sulla palla nera e ho beccato messi ragazzi come è successo con Suarez ho beccato anche messi quindi ho avuto fortuna e infatti lo sto allenando perché quando si becca con gli agenti free sono di livello 1 ora possiamo partire col pack opening faremo un secondo round con è il classico con questo agente perché ho il 49 per cento di palla nera perché era 50 per cento ma ho preso messi quindi ok e niente ragazzi altri 200.000 gp su questo agente vai possiamo partire a me mi interessa prendere un sergio ramos dani alves o un yaya vediamo un po se riesco a beccare uno di questi tre mi accontento e si parte subito con una palla nera vai così corri vai chi è chi è questo chi è iguain cosa me ne faccio di iguain però ragazzi vabbè dai se se in condizione fisica buona magari ho qualche punta messa un po male quindi vabbè comunque non posso lamentarmi perché sono partito con un yaya in quindi solo che io cerco più difensori centrocampisti perché ad attaccanti sto bene vabbè stiamo a vedere vabbè ragazzi è normale che una palla oro dopo i yaya ci voleva eh vabbè sa viola sa viola ragazzi bah farà le sue dieci partite poi andrà andrà via vai andiamo ancora o faccio 200.000 o 210.000 gb adesso vediamo ragazzi come mi gira eh dipende come dipende come mi gira scusatemi allora ho fatto palla nera palla oro palla argento quindi adesso dovrà essere palla nera se facciamo così ragazzi a me mi sta anche bene ora comunque staremo a vedere qui staremo a vedere cosa ne esce fuori se rispunto una palla nera chissà guardate che bella fila lì e vai e vai corri corri anche tu niente vabbè vabbè dieci partite a novellino campione poi dieci partite a livello campione stai a posto dai te ne puoi andare vabbè comunque ho preso i guain che non è male però ripeto di attaccanti sto pieno vai altra palla nera su ma i portieri non mi servono comunque ma reina e quando giochi e quando ti farò giocare non lo so non lo so sinceramente non so se giocherai comunque comunque a parte le partite a coppa novellino e queste cose qui chi è questo chi è vai kinder bueno possiamo andare avanti ragazzi devo parlare piano perché c'è la mia ragazza che dorme già sto alzando un po' troppo la voce già sto facendo un po' troppo il brado per i miei gusti ma ragazzi domani questo agente viene tolto e un altro round ho voluto farlo un'altra palla oro i cardi vabbè cosa me ne faccio di cardi no vabbè con tutti i campioni che ho preso i cardi credo che sia veramente no no vabbè mi dispiace i cardi ma non giocherai mi dispiace ma è così ti fai i tuoi dieci partiti amichevole così a posto e beh io voglio un sergio ramos almeno almeno un sergio ramos dai un grande sergio ramos speriamo dai palla nera palla nera palla nera palla nera no un altro argento chi è questo qui branduardi vabbè no no che cosa acquisto monete ma cosa acquisto ma vai ma per cortesia ma per cortesia vai io faccio gp faccio i gp di a posto vai palla nera ragazzi dai dammi un sergio ramos dai nessuno dei tre nessuno dei tre scandaloso vabbè ma ragazzi oggi sono stato ben pagato ho preso Messi a gratis con un agente free a due stelle quindi giustamente poi dice preso Messi sei partito con Higuaín cosa devo darti di più hai anche ragione però un difensore un centrocampista dammelo niente no non mi da non mi da nulla ragazzi si si dai faccio tutte 210.000 gp ragazzi vi voglio bene quindi vai palla nera corri 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 eh vabbè si vabbè casemiro buonasera buonasera veramente buonasera con casemiro qui ora ci vorrebbe un'altra palla nera subito veloce veloce bellissima bellissima corri 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 no portiere non mi servono non mi servono si ok sei bravo ma non mi servi ok ragazzi altro 80.000 gp vediamo un po' resterò con 3.000 gp in tasca però in tasca scusate sono emozionato perché oggi ho preso Messi quindi quindi eh cioè tu mi dai Higuaín ma cosa me ne faccio di Higuaín si è forte ma ne ho tanti di attaccanti però magari se sta se non è in buona condizione su Alex o alcuni va anche bene però palla oro non va bene perfetto perfetto vai ok altri sitivi ragazzi altri 60.000 gp vediamo un po' vediamo un po' così arriviamo a 210.000 vai altra palla nera dai corri corri chi è questo isco 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 ragazzi che al centro campo non dovrebbe essere male però io voglio un Yaya oppure un Sergio Ramos o anche un Dani Alves però più un Sergio Ramos dai grande altra palla nera vieni qui corri corri anche tu dai che ti vedo ti vedo eh questo fa la corsa emicidiale Benzema cioè la sagra degli attaccanti tutti io gli attaccanti si ti ringrazio Pes ma dammi anche il difensore centrocampista che mi serve di più gli attaccanti ce l'ho altra palla nera vai vai corri corri anche tu corri vai grande pepe ragazzi pepe che comunque sto prendendo ottimi giocatori eh c'è poco da scherzare qui c'è poco da scherzare sto facendo no no non mi lamento affatto su questo pack opening non ci sono ancora i giocatori che cerco ma altra palla nera vai vai accelera anche tu corri grande no un telar un'altra punta un telar dai eh vabbè ragazzi di un telar veramente non so che far me ne cioè posso capire Iguain e Benzema ma un telar dammi un'altra palla nera dai sarebbe il top un'altra palla nera adesso eh ragazzacci corri corri eh non corre non corre delo vabbè delofeo come cazzo si dice vabbè vai ragazzi ultimo ultimo tiro di questo agente poi rifarò il gp vediamo che agente metteranno questa settimana perché questa notte chiuderanno i server vai altra palla nera chiudiamo così accelera 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 ottimo noo xavier alonzo cosa me ne faccio vabbè ragazzi comunque non posso dire che non è andato mai bene il pack opening è andato veramente bene e niente ragazzi allora questo agente si conclude qui perché tra poco chiuderanno i server ci sentiremo con i prossimi pack opening con i prossimi gameplay di pass e niente ragazzi vi ringrazio tutti per il vostro supporto un saluto a tutti al vostro diablotex allora prima di magari di chiudere questo pack opening non mi trattengo altri due minuti ricapitoliamo i giocatori che ho preso in questo pack opening i più importanti ecco allora sono messi già loro ho preso ragazzi allora benzemà iguain poi ho preso pepe eccolo qui ragazzi ho preso pepe e xavier alonzo che sinceramente vabbè untelar giocatore inutile per me poi magari per alcuni è forte ma per me ho preso isco isco a centrocampo vorrei provarlo sinceramente vorrei provarlo vi dico la verità e vabbè joan fran e poi ragazzi possiamo chiudere qui perché poi il resto insomma non sono giocatori che mi interessano ecco quindi un saluto a tutti al vostro diablotex questo pack opening si chiude qui ciao a tutti alla prossima ciao